Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi è una giornata molto importante per la Toscana e per l'Italia intera. Prato una manifestazione questa mattina dei sindacati e di tante persone che hanno voluto ricordare Luana Dorazzo, la ragazza di 22 anni scomparsa a causa di un incidente sul lavoro. Ed è però la giornata, sono i giorni anche evidentemente delle lettere, dei telegrammi che arrivano ai lavoratori della Becart, i 113 lavoratori che in quell'azienda sono rimasti e si chiude una battaglia molto lunga, ma soprattutto la storia di un'azienda, di un marchio e di un territorio che rischia di rimanere orfano di questa azienda, di questo stabilimento. È il lavoro, parleremo di questo, parleremo delle crisi da una parte, parleremo dei diritti, della sicurezza sul lavoro, di molto altro. Parleremo di tutto questo con Daniele Calosi, segretario generale della FIOMCGL di Firenze e Prato. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, tra l'altro Calosi, insomma, questa mattina era a Prato, tra poco sentiremo anche le parole del sindaco di Prato, il presidente dell'Anci Toscana Matteo Biffoni. Le chiedo però, prima di tutto, non tanto da sindacalista quanto da uomo, che sentimento c'era stamattina in Piazza? Ma c'era un sentimento di rabbia anche perché, vede, oggi noi abbiamo indetto uno sciopero a livello provinciale, le organizzazioni sindacali provinciali di Cigello Cisluide di Prato hanno detto un sciopero provinciale di quattro ore, quindi le persone che lì sono venute sono venute non andando al lavoro, rinunciando a un pezzo del salario per denunciare non solo una vicinanza, sicuramente, alla tragedia che ha colpito questa giovane lavoratrice, quest'operaia, ma soprattutto perché non si può più parlare di incidente adesso sul lavoro. Adesso sul lavoro, quando si parla di incidente perché c'è un morto, significa derubricare quasi una fatalità. Non si può più chiedere, non si può più pensare che sia un fatalità. Ci sono delle responsabilità chiare, uno è l'elemento assoluto di precarietà che c'è nel mondo del lavoro e dall'altra anche l'elemento stesso che sempre più spesso i lavoratori sono costretti ad operare proprio in condizioni di precarietà, sia riguardo ai contratti che li vengano applicati, ma anche riguardo ai contratti della sicurezza. Poi nel caso di specie c'è un'indagine in corso, sembrerebbe addirittura che i dispositivi di sicurezza fossero stati tolti per essere più produttivi. Insomma, quando la vita di un lavoratore o di una lavoratrice non viene dato un valore di natura umana, ma solo un valore economico, significa a che punto è arrivata il rispetto alla dignità delle persone. E quello che è successo a Prato, ne è successo un altro, un metalmeccanico, Bustar Stizio, proprio nella giornata di ieri, un operaio di 49 anni è morto in un tornio. Quindi si continua a morire sul lavoro ed è una mattanza a tutti gli effetti, dove bisognerebbe far calare anche un po' il velo di ipocrisia di certa politica, di certe istituzioni che sono vicine ai lavoratori, ma poi nella fattività, rispetto anche all'applicazione di queste leggi, fanno poco. Sì, questo è un tema. Tra l'altro, insomma, ce ne sono diversi, perché appunto anche nell'indagine, nel caso di specie, come dire, c'è da una parte eventuali negligenze, dovranno essere chiarite dalla magistratura, dall'altra parte c'è tutto il tema della formazione, che è un altro tema. E poi c'è quello che diceva un po' Calosi, che ne abbiamo parlato anche ieri, con Jacopo Stoni, che riguarda la sicurezza sul lavoro, ma è un tema che riguarda la precarietà. Cioè la precarietà sul lavoro, le persone quando sono precarie, devono, vogliono lavorare di più, cercano di lavorare di più, e spesso monetariamente non arrepentagli la propria vita, per cercare, insomma, sostanzialmente di arrivare in fondo alla giornata. E questo di per sé è un altro tema che ha a che fare con la sicurezza. Senza andare però troppo lontano, ripartiamo dalle parole del Sindaco, perché in parte riprende quello che diceva Calosi, cercando di dare anche una prospettiva appunto legislativa, ci sarebbe bisogno, normativa a questo tema. Sentiamo Matteo Biffone. Diciamo, il lavoro come amministrazione comunale si è fatto, caricandoci come istituzione locale una responsabilità, quella dei controlli, oltre 15 mila insieme alla regione toscana. Ci vogliono leggi e ci vuole la presenza dello Stato. Guardate, io ho fatto i parlamentari, insieme a me tanti colleghi parlamentari, ho fatto il Sindaco 2014, si sono alternati governi di sensibilità diverse. Gli si è spiegato un milione di volte, e questo distretto ha delle peculiarità tutte sue, che l'orditura luana, dove 15-20 dipendenti, dove la titolare lavora dentro l'azienda, ce ne sono migliaia nella nostra città, e che oltre a quei 28 mila dipendenti diretti del mondo tessile, c'è il distretto tessile del pronto moda, e che bisogna che ci sia un rinforzo nella presenza dello Stato, non solo nell'Ispettorato del Lavoro, ma anche in Procura della Repubblica, in Questura, in Prefettura, al Comando dei Carabinieri, perché da soli, per una peculiarità tutta nostra, dove c'è un'orditura, c'è una sfilacciatura, c'è una tessitura, c'è una tintoria, poi c'è il lanificio, noi abbiamo una peculiarità che non si riesce a spiegare, forse siamo noi, non riusciamo a spiegarla fino a un fondo, abbiamo bisogno dello Stato, le leggi ci sono. Poi è chiaro, le macchine devono funzionare, devono essere riviste, devono essere in funzione, devono essere regolamentate, ci deve essere poi una collaborazione diffusa, e poi ci deve essere la formazione, perché Luana era un apprendista, aveva fatto quattro ore di formazione, se non ho capito male, e probabilmente non aveva avuto a fianco un collega più esperto, che gli ha passato in mestiere. Anche su questo tema della formazione, della riconfigurazione delle nuove leve, del mondo del tessile, che devono avere a che fare con nuove macchinari, ci vuole un approfondimento importante e specifico. Lo dirò a Andrea Orlando, che è un amico, e che è una persona sensibile e attenta, che viene da un mondo, lo conosce bene, quello è la Spezia, tutte le difficoltà del portuale, sa quali sono le necessità del mondo del lavoro, credo nella sua sensibilità, so che sicuramente ci ascolterà, ribadiremo queste richieste, ancora una volta, con i numeri del nostro distretto e le nostre necessità. Allora, qui il Sindaco fa ovviamente un discorso molto relativo al distretto pratese, che però è particolarmente importante, e non soltanto perché sono i fatti di cronaca, però ci sono un paio di questioni che secondo me sono trasversali anche rispetto al nostro paese. Le leggi, cioè cosa serve, e queste sono domande in giro a Daniele Calosi, cosa serve e cosa servirebbe, e il tema della formazione, che è un altro tema fondamentale, e il tema del passaggio di consegne generazionale. Da una generazione all'altra generazione, troppo spesso c'è un gap, c'è un vuoto nel mezzo, che poi inevitabilmente rischia di diventare un rischio appunto sul lavoro. Beh, intanto io penso che si deve principalmente riportare i lavoratori nell'applicazione contrattuali, che meritano, perché ora è il caso di specie, appunto, una lavoratrice aveva fatto pochissima formazione, era un apprendista, ma i ritmi di lavoro che oggi vivono i lavoratori, spesso sono fuori da qualsiasi regolamento, legge o contratto. Pensiamo ad esempio a Corrieri che portano Amazon, che lavorano a condizioni assolute di sfruttamento con l'applicazione minima dei contratti, o addirittura i rider che nemmeno hanno il contratto, eppure sono lavoratori anche quelli. E poi c'è il fatto che tutti i governi che si sono succeduti sono andati sempre più verso la depenalizzazione di quelli che sono i reati collegati come responsabilità solidale dei datori di lavoro rispetto agli infortuni. Noi, ad esempio, come CGL, in ogni infortunio, sia di carattere mortale, ma non solo, diamo indicazione se la famiglia, naturalmente, di colui o di colui che ha avuto l'incidente, è d'accordo e ci ostituiamo partecipare. Poi c'è un pezzo riguardo a noi, perché io sono una persona molto franca da questo punto di vista. Ci sono anche delle responsabilità del sindacato e anche noi dobbiamo essere più presenti. Cioè, il tessuto economico-pratese, che ho da poco iniziato a conoscere, è un tessuto economico e sociale che vede una presenza del sindacato non così massiccia. Rispetto alla quantità di aziende. Quindi noi abbiamo anche la necessità, anche noi, di rinnovarsi rispetto a quelli che sono le innovazioni non positive dell'economia. E quindi riportare sempre di più un sindacato che è più vicino alle istanze dei lavoratori, come diciamo noi, un sindacato più di strada, più nel mezzo alle persone che per vivere devono lavorare. Io mi è capitato di andare a fare delle assemblee nel settore metalmeccanico, proprio nella zona dove è successo il fatto, perché noi da poco abbiamo rinnovato il contratto nazionale e c'è una fabbrica testa e una fabbrica metalmeccanica, una fabbrica testa e una fabbrica metalmeccanica. E noi bisogna essere ancora più presenti, non riguarda solo la FIOMME, riguarda l'interezza dei sindacati e non solo della mia organizzazione. Io poi, ovviamente, parlo al nome della CGL e credo che noi lì dovremmo anche pensare come riorganizzarsi per essere più vicino alle istanze dei lavoratori. Anche perché, se posso aggiungere, c'è la prospettiva, no? In uscire dall'emergenza Covid, che sarà una crisi occupazionale, ne abbiamo parlato tantissimo anche in questi giorni, anche per quelle che sono le prospettive insomma fatte dall'IRPET, si abbatterà moltissimo sui lavoratori, c'è la precarietà e i rischi sul lavoro rischiano di aumentare, no? Dove le aziende tenderanno a produrre di più, si lavorerà in condizioni peggiori, insomma, è come dire, rischia di piovere sul bagnato in qualche modo, no? E questo è un tema, ce l'avete presente, insomma, secondo voi quali sono le prospettive? In questo senso, quanto la crisi occupazionale derivata dal Covid potrebbe ricadere sulla sicurezza? Ma ricadrebbe e ricadrà in maniera molto massiccia, se voi pensate ad esempio durante il primo periodo del lockdown, salvo il fatto che alcune aziende lavoravano, gli infortuni sul lavoro sono andati a diminuire, sono aumentate appena ripartì la produzione. Appena sono ripartite la produzione è aumentata perché sono aumentati i ritmi e lo sfruttamento delle persone dove gli dicevano a questi precari ti si rinnova il contratto se fai vedere che sei bravo, ti si rinnova il contratto e ti si trasforma da apprendista a lavoratore a tempo indeterminato se fai vedere che dai la disponibilità. A una ragazza di 22 anni che è giovanissima, che non ha un'esperienza lavorativa, è successa questa cosa perché forse anche per far vedere l'impresa l'ha messa in una condizione di non sicurezza e questo avviene sia nelle piccole ma anche nelle grandi aziende dove comunque il sistema di tutelare la sicurezza è maggiore. Ci sono i comitati per la sicurezza, ci sono i rappresentanti lavoratori alla sicurezza che i lavoratori stessi devono eleggere, dove non c'è le organizzazioni sindacali ecco l'importanza di essere presenti vicino ai luoghi di lavoro o la nostra presenza fisica dentro i luoghi di lavoro con i nostri iscritti il rappresentante lavoratori alla sicurezza spesso viene fatto votare dai datori di lavoro sotto e invece devono essere direttamente lavoratori che lo votano e la legge sulla sicurezza in Italia, sulla carta, è una delle migliori leggi che c'è in Europa a tutela proprio del lavoratore e delle lavoratrici purtroppo, questa è molto disattesa, ci sono stati tagli, come dicevo prima, sia della depenalizzazione rispetto ai reati che è un deterrente, esatto, ha ragione lei e poi soprattutto anche perché tutti, e qui ha ragione il sindaco, di Prato tutti gli organi ispettivi di controllo sono stati via via depotenziati per l'Italia alla spessa pubblica oggi si parla di recovery fund, perché non pensiamo anche di rafforzare questo? Cioè un paese, che è il secondo paese manufatturiero d'Europa, l'Italia ha la necessità di investire in sicurezza perché investire in sicurezza significa investire anche nel futuro non solo generazionale delle persone che lavorano ma anche nel futuro del nostro paese Assolutamente, assolutamente tra l'altro soprattutto, insomma, in un paese dove sono anche tanti marchi che guardano la nostra manufattura per i conto terzi, per tutte quelle situazioni per quelle filiere, come dire, che funzionano però devono funzionare inevitabilmente stando dietro alle leggi che altrettanto funzionano tra l'altro rispetto a quello che diceva Daniele Calosi più 11,8% se non sbaglio il dato in crescita degli incidenti sul lavoro dall'inizio del 2021 rispetto al 2020 quindi sintomi laddove si è ripartiti si è ripartiti male però sostanzialmente non nelle condizioni migliori per i lavoratori sono la media di due lavoratori morti al giorno dall'inizio dell'anno una vera e propria strage senta, poi voglio parlare anche della Becartes che appartiremo anche quell'altro argomento le voglio chiedere solo un'ultima cosa su questo perché è un altro pardosso andiamo verso un periodo in cui stiamo attentissimi alla tecnologia e giustamente c'è un dibattito su quanto la tecnologia deve entrare nel mondo del lavoro senza togliere posti di lavoro ma dall'altra parte potendo aiutare invece come ha scritto qualcuno giustamente sembra che la tecnologia spesso e volentieri si ferma all'inizio dell'azienda e soprattutto non arriva mai a contemplare la sicurezza sul lavoro è assolutamente vero questo per la semplice ragione parliamo tanto di industria 4.0 il mio è un settore un settore manifatturiero classico quello della metalmeccanica che abbraccia una categoria amplissima perché noi andiamo dai softwareisti proprio quelli che inventano l'industria 4.0 poi all'operaio che lavora ancora in officina e come si dice fa truciolo il punto vero è che spesso le imprese considerano comunque anche i miglioramenti tecnologici e la transizione tecnologica collegata alla sicurezza un costo e deve essere un costo questo cioè non è che si può risparmiare sulla vita delle persone guardate se in questo paese e ne è morti tanti anche per il covid i lavoratori lavorano oggi in situazioni di tranquillità dentro i luoghi di lavoro si deve fare il fatto che quei lavoratori la mia è una categoria che noi l'anno scorso abbiamo dovuto fare sciopero per bloccare le fabbriche e chiedere che fossero fatti i protogli per la sicurezza per rispetto alle normative igieniche e sanitarie di fronte a una pandemia ecco c'è il sindacato comunque ha un metà a disposizione noi la nostra intelligenza collettiva al paese oggi a questi lavoratori che l'anno scorso e tanti sono andati a lavorare durante il periodo del lockdown vale per i lavoratori del pubblico pensiamo alla sanità e agli altri fino anche a lavoratori privati che sono andati a lavorare le commesse nei supermercati i metalmeccanici facevano e fanno tuttora ma con tensione ai respiratori polmonari alle sonde a bordoletto che sono lavoratori che stanno nelle corsie tutta applaudirli che erano degli eroi e poi però si vede che questi eroi molti sono morti sia per il covid oppure per quello perché la sicurezza sui luoghi di lavoro è molto bassa ecco io credo ecco togliono un velo di ipocrisia anche un pezzo della politica soprattutto la politica che governa a questo punto sarebbe opportuno ecco io credo che stamani la nostra piazza ha dimostrato intanto un grande rispetto e dignità per la tragedia che ha colpito questa famiglia e poi c'è anche tutto l'aspetto emozionale non banale di una ragazza giovane di un bambino piccolo quindi una tragedia nella tragedia la storia in sé è una storia che ha colpito gran parte dell'opinione pubblica del nostro paese non riguarda solo la provincia di Firenze o di Prato insomma o la nostra regione perché lo dicevamo ieri è un po' ipocrita perché non succede tutte le volte però dall'altra parte può essere simbolico può aiutare la battaglia questa cosa ecco potrebbe essere non passiamo come un indimenticatoio cioè ad esempio io faccio un esempio molto anche molto forte anni fa mi pare due o tre anni fa fumo molto colpiti da una spiaggia della Turchia dove un bambino con un cappottino mi pare rosso Highland era rimasto senza vita perché stava cercando insieme alla mamma di venire in un mondo migliore tutti colpiti l'opinione pubblica è colpita però si continua ancora a morire in mare quindi significa che possiamo una volta tanto togliere il vero alle protesie io l'ho detto prima se ci sono le responsabilità del sindacato noi al nostro interno dobbiamo verificare e trovare quelle che sono le nostre responsabilità per essere più vicini alle esigenze dei lavoratori però non è nemmeno pensabile che chi ha delle responsabilità per esempio io credo che il silenzio delle associazioni datoriali sia della Toscana che della provincia di Prato sia assordante e qualcuno li dovrebbe richiedere come mai io non ho trovato dichiarazioni stampa poi se ci sono me ne scuso con l'associazione datoriale tipo Confindustria ma l'associazione industriale di Prato non c'è niente quella era una giovane vita di 20 anni come altre ce ne sono state prima quindi ecco credo che il rispetto inizia anche mettendo in campo cose pratiche quindi mi auguro che questo sia di esempio senta dove invece il sindacato c'è da dire anche parte dell'istituzione poi ce lo spiegherà a lei invece si è dato da fare purtroppo però non arrivando poi in definitiva alla salvaguardia completa diciamo di questi laboratori è il caso della Becart che oggi appunto sono stati raggiunti i laboratori vengono raggiunti dai telegrami di licenziamento c'è però ancora ci sono ancora delle prospettive in campo che riguardano la possibilità di reindustrializzazione ed eventualmente la sintesi diciamo l'unione con il sistema dell'acciaio toscano le chiedo intanto partiamo da questo partiamo dalla cronaca quali sono le prospettive reali per questi laboratori io sono particolarmente netto e anche molto chiaro io non ne vedo perché anche quello che ha detto ieri il presidente della regione è un qualcosa che non corrisponde ad oggi alle notizie che abbiamo nel nostro possesso cioè il polo dell'acciaio in toscana non esiste per la semplice ragione che il piano industriale che ha presentato Gindal al ministero dello sviluppo economico nella persona del ministro che è Giorgetti è stato bocciato dallo stesso Giorgetti che poi lo stesso ministero nell'ultimo giorno di trattativa di Beherte ci dica che c'è quello io gli ho fatto una battuta alla sottosegretaria mi rispetto istituzionale però è una battuta che mi è venuta così bisognerebbe che dentro il ministero facessero pace nel cervello gli ho detto perché non si può dire a Fimme Fiumme Wilm che siamo gli stessi che su Piombino viene bocciato il piano e lo stesso ministero gli dice alle stesse persone che invece su Beherte c'è Piombino quindi questa è la prima cosa se poi il presidente della regione essendo il presidente una regione importante nella nostra e avendo contatti che il sottoscritto non ha rispetto a quello che sta su Piombino a qualcosa ce lo faccia vedere ci convoca e ci spiegare il piano ad oggi benché noi abbiamo preso posizione su questo non è arrivato quindi rimaniamo su questo ad oggi c'è una certezza che questi lavoratori hanno ricevuto una lettera una lettera che l'azienda avrebbe comunque mandato e la cosa che noi abbiamo contestato alla regione pubblicamente è che questi licenziamenti avvengano a fronte di un licenziamento e di un accordo sindacale che noi non abbiamo sottoscritto il 24 di febbraio ma che la regione toscana ha consentito attraverso i propri uffici di firmare firmandola anch'essa poi attraverso gli uffici ma firmando lì bisognava che la regione toscana giochasse un ruolo politico non firmando quell'accordo perché se vista aver guadagnato otto settimane non è servita a niente se non che allungare l'agonia a questi lavoratori quantomeno l'azienda avrebbe fatto una decisione una decisione unilaterale e dove tutta la comunità che all'epoca dopo quel 22 giugno del 2018 tutta la comunità della Toscana si strinse intorno al laboratorio dell'Aberto con una manifestazione oceanica per la piazza di Figline Valdarno ecco la stessa comunità si stringeva intorno a quei lavoratori contro l'arroganza dell'azienda invece quei lavoratori sono stati proprio licenziati a seguito di un accordo sindacale sulla quale la regione ha messo la sua firma basterebbe chiedere scusa quantomeno almeno questo è dovuto a 113 persone allora facciamo così visto che ce l'abbiamo l'intervista di Gianni ma insomma ne ha già parlato Falosi la prima parte però vale la pena aggiungerla perché è anche quello che riguarda il dopo Bekert diciamo così a Figline e riguarda una situazione comunque anche dal punto di vista ambientale dal punto di vista urbanistico dovrà essere in qualche modo gestita lo sentiamo tanto poi tagliamo a metà l'incontributo vediamo noi abbiamo vissuto incontri molto duri e molto forti io sono stato estremamente sconcertato dall'atteggiamento dell'azienda Bekert proprio poco prima di iniziare questo colloquio con voi parlavamo con la sindaca Giulia Mugnai verrò a trovarla nei prossimi giorni e con Giulia decideremo un po' quello che è l'aspetto ambientale del sito perché quel sito nel momento in cui è inattività è una cosa ma nel momento in cui si deve fermare dobbiamo verificare quello che c'è quello che sono le situazioni che lascia in un ambiente che è nel questo ragione il senso lo avete capito c'è una questione ambientale però come dire è la questione successiva no Calosi rispetto a quello è la questione successiva perché l'azienda non ha mai presentato in 35 mesi da quando ha aperto la procedura di licenziamento collettivi il 22 di giugno mai e poi mai un piano industriale bene l'azienda era obbligata a presentarlo perché ha beneficiato di un ammortizzatore sociale che noi abbiamo chiesto di reintrodurre addirittura il decreto gli siamo permessi noi di proporlo al ministro Di Maio del governo ho perso il numero dei colori giallo verde quando venne il viso giallo verde esatto siamo stati noi che gli abbiamo proposto devo dire che quel decreto ha consentito però la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di attività finalizzata alla reindustrializzazione che ne beneficiano tutti i lavoratori italiani naturalmente di tutti i settori fu il caso Becchert che fu apripista per la reintroduzione quella è stata una cosa positiva e lo si deve a quei lavoratori se questa cosa c'è però l'azienda pur beneficiando di un ammortizzatore specifico per la reindustrializzazione non ha mai reindustrializzato l'unico piano industriale realmente presentato fu quello della cooperativa che il ministero non ha mai preso in considerazione cooperativa e vorrei ricordare di lavoratori che avrebbero rilevato l'interezza dello stabilimento con l'interezza della forza lavoro però quella discussione non c'è mai stata e mai nessuno ci ha detto perché ne ha noi sono cambiati anche i governi magari nel mezzo però il piano industriale era stato presentato ed è un soggetto industriale e la cooperativa come gli altri il piano industriale non è stato presentato da un soggetto sconosciuto ma da Lega Hop che è il soggetto di rappresentanza del settore delle operative più grandi e sanitario adesso sulla reindustrializzazione è più compiata su questo punto che diceva il Presidente sono molto d'accordo perché su questo ci siamo anche confrontati personalmente con il Presidente c'erano due questioni che legavano beccherte al territorio i rapporti di lavoro il vincolo dei rapporti di lavoro che venendo meno naturalmente con i licenziamenti quell'azienda è libera e l'altro vincolo però ce l'ha sul terreno perché comunque è di proprietà e quindi bene fa la regione toscana a far valere diciamo sì il rispetto anche la tenuta ambientale di una fabbrica perché sembra strano ma una fabbrica chiusa in quina di più di una fabbrica aperta ed è una e quella è un'area industriale molto vasta e quindi bene che il Presidente della regione toscana al SEM alla sindaca di Figline Incisa facciano una verifica attraverso gli uffici soprattutto agli uffici regionali su dell'ARPAT e consegnino anche questa cosa a noi come organizzazioni sindali noi io ho avanzato a nome della Feom e poi vediamo se su questo penso anche i miei colleghi di Filme e di Wilme siano d'accordo di costituire comunque un coordinamento attraverso i sindaci che si è dato in mano alla sindaca di Figline dove questo bacino di lavoratori possa essere un bacino da prendere a riferimento per le imprese naturalmente nella zona visto che c'è un settore che va fortissimo adesso che è quello della moda è una delle più importanti aziende del settore della moda sta investendo e continua a investire nel Val d'Arna Retino che è Prada visto anche i successi che ha avuto in Coppa America vinca un'altra coppa e di lavorare a delle persone che ne hanno necessità perché devono portare a casa un po' di pane ai loro familiari non ci va bene anche se le pigliano sulla nave sulla barca va bene tutto in questo momento diciamo che su questo augurio ci uniamo anche noi che effettivamente è una delle prospettive più importanti per queste persone per un territorio intero e ringraziamo Daniele Calosi grazie per essere stato grazie a voi grazie a voi grazie per aver aperto una pagina importante su questo tema su cui continueremo a parlare anche nei nostri notiziali con Telegram invece ci fermiamo qui anche per questa settimana ci vediamo naturalmente lunedì buona serata a tutti grazie a tutti